Ci troviamo proprio qui a Caparrone in via Fino nel comune di Colle Corvino e quello che vedete alle mie spalle è proprio il fiume Fino che nasce dalle montagne del Terramano e poi si congiunge al Tavo formando il Saline. Proprio qui ieri alle ore 14 è stato trovato il corpo di un uomo, un corpo visibilmente sfigurato, irriconoscibile, privo degli arti superiori. Dopo il ritrovamento da parte di una signora che abita qui nel posto si sono subito attivati i soccorsi e i carabinieri arrivati sul posto, i carabinieri di Colle Corvino insieme alla compagnia di Montesilvano hanno subito iniziato a riconoscimento del cadavere. Ma in molti già pensano che sia il corpo di un uomo scomparso da Bisenti lo scorso 21 ottobre. L'accostamento, per ora solo quello, del nome di Palmerino Piccirilli, 83 anni di Bisenti scomparso dalla città brutina lo scorso 21 ottobre, al corpo ritrovato, è avvenuto soltanto dopo l'arrivo del medico legale, il quale ha fatto sapere che il cadavere apparterebbe ad un uomo sull'ottantina di anni e di bassa statura. Anche il pensiero del sindaco di Bisenti, contattato dal suo collega di Colle Corvino Antonio Zaffiri, è andato subito all'uomo scomparso da quasi tre mesi, nonostante tutta la zona del circondario di Bisenti sia stata abbattuta più volte da carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino, e benché i familiari abbiano fatto numerosi appelli nel corso della trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto. Il corpo ora si trova presso l'obitorio dell'ospedale civile di Pescara, a disposizione del medico legale, il quale soltanto dopo il risultato della comparazione del DNA con uno dei familiari prevista per le prossime ore potrà dare un'identità più precisa all'uomo.